ciao ciao amici benvenuti o bentornati qua sul mio canale sono sempre carletto qua regalarvi una delle mie recensioni dopo aver visto le tartarughe ninja sia in versione della neca che nella versione della bandai andiamo 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 a recensire ragazzi april finalmente mi è arrivata questa qua è della versione neca è veramente fatta fatta molto molto bene guardate che carino che già il box questa qua era uscita incombinata insieme a un altro personaggio parecchio tempo fa ma era andata subito sold out a un prezzo folle quindi neca ce la ripropone in singolo vedete in questo modo qua con anche un sacco di accessori quindi andiamo ad unboxare vediamo tutti gli accessori vediamo bene la nostra april nel dettaglio vediamo come ce l'ha fatta ma sembra veramente fatta bene come tutta questa linea riguardanti le tartarughe ninja i nostri tartos della neca sono sono rimasto veramente ragazzi sbalordito in april quanti accessori ci hanno messo allora velocemente vi faccio vedere le mani così perché perché le mani ce ne sono talmente tante vedete apposta perché ci sono un sacco anche di accessori che possiamo andare a integrare con la figura e quindi per questa hanno messo un sacco di mani ci sono talmente tanti accessori ragazzi che ve li faccio vedere velocemente sono fatti veramente benissimo come dettaglio come pittura sculpt guardate vedete nonostante una figure di medio costo diciamo anzi in alcuni casi anche basse questa della neca tengono un rapporto qualità prezzo eccezionale vedrete quanti accessori abbiamo qua in april guardate qua anche il quadretto fatto veramente benissimo ve li devo far vedere per forza veloce perché se no sono veramente tantissimi ragazzi è guardate qua dettaglio qualità e soprattutto tantissimi tantissimi vedete accessori guardate qua veramente un sacco un sacco di accessori e anche fatti devo dire veramente bene ragazzi guardate anche la piantina guardate qua fatte veramente bene poi la piantina carnivora anche guardate troviamo veramente in april tantissimi che non mi aspettavo accessori tanti guardate parti aggiunte in più che potevano anche non mettere invece le hanno messe sono fatte anche discretamente discretamente bene guardate i volti aggiuntivi se vi faccio vedere guardate come sono fatti bene guardate come è particolare questa linea della neca che sembra quasi un manga sembra quasi vedete disegnato veramente bella 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 questa april mi è piaciuta un sacco guardate veramente tantissimi accessori volti parti che potevano anche non mettere e ricordo che è un rapporto qualità prezzo molto conveniente guardate anche il microfono del canale 6 vedete fatto veramente bene oltre a questo microfono sciolta hanno messo anche il microfono guardate che bello attaccato al vecchio registratore vedete tutti curati veramente guardate ragazzi molto molto bene per il livello di figure della neca vedete questa anche la telecamera guardate che carina la telecamera anche guardate hanno simulato anche dietro il display tutti gli accessori vediamo questa si può anche abbassare guardate qua ragazzi hanno simulato veramente tutto bella 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 questa è prima andiamo a vedere dopo aver visto tutti gli accessori che erano veramente tante andiamo a vedere lei vedete questo è il viso classico che viene messo su anche questo fatto veramente bene poi guardate la particolarità di queste figure della neca che vuol dare quasi senso proprio di un disegno guardate i tratti come sono fatti bene guardate che non ha praticamente sbavature ricordo che è una figure tra virgolette entry level nel senso che questo livello di neca non costano tantissimo prendono poi un costo esagerato perché poi dopo vanno sold out come le tartarughe costano un'infinità però lei se avete le tartarughe ragazzi per completare lei e splinter vanno presi sicuramente vedete purtroppo quando ci sono questi snodi così evidenti a me non piacciono ma qua neca vedete ha tentato di andarli a coprire appunto col disegno e ci è riuscita ragazzi anche abbastanza bene perché bisogna starci proprio attenti anche qua nella manica vedete andata a coprire lo snodo e quindi si vede ma non tantissimo comunque fatta per una figure che al lancio non costa tanto il preordine non costa tanto è sicuramente un buon buon guardate qua il risultato questo qua di april della neca l'aspettavo da tanto tempo finalmente arrivata dopo le tartarughe e va a completare sicuramente ci vuole la nostra collezione sulle tartarughe ninja dai lei sicuramente strapromossa mi piace fatta bene e al lancio non ha neanche un costo proibitivo quindi bella 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 vediamola girare magari con la telecamera veramente veramente ragazzi troviamo in questa fascia di prezzo dei prodotti con tutti questi accessori perché neca qua veramente in april non ha lasciato niente al caso ha messo anche forse più accessori di quanto uno si poteva immaginare e la figure fondamentalmente è fatta veramente bene purtroppo in questa fascia di prezzo in questi prodotti della neca va a perdere tanto la posabilità perché questi snodi facciamo fatica a trovarli la posizione buona facciamo fatica a muoverle gambe le braccia perché comunque sono molto rigidi perché comunque sono diciamo articolazioni snodi non di altissima qualità questa cosa qua va detta e quindi pecca un po' su questa cosa qua perché è posabile sì ma molto molto limitatamente però quando noi fondamentalmente questo il senso poi la metto troviamo la posizione che più ci piace l'andiamo a mettere in vetrina in questo caso insieme alle nostre tartarughe fa veramente la sua bella figura perché anche questa è per il come le tartarughe di neca sono fatte bene parer mio le tartarughe di neca sono più somigliante all'anime sono più belle anche dell'SH figuarts e in più hanno fatto anche tutti i cattivoni continuano a uscire figure sempre della serie brand è molto forte quindi ragazzi sicuramente per quanto riguarda neca secondo me è un passo avanti rispetto in questo caso alle figure delle tartarughe di casa bandai anche se ovviamente è tutto un altro pianeta la posabilità delle tartarughe di casa bandai comunque questa april è stra promossa hanno messo anche più accessori di quanti una persona si potesse immaginare sono comunque dettagliati bene e sono un ottimo rapporto qualità prezzo perché comunque all'uscita poi prendono valore ma all'uscita sono quasi figure in tre live nel senso che sono figure che non costano tantissimo e quindi ci sta ci sta ci sta dai andiamo a concludere bella 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 sicuramente molto accessoriata questa nostra april sempre di neca brand fu molto forte che sta facendo veramente ragazzi tutte le figure riguardante il mondo delle nostre tartarughe ninja e che dire quindi stra vince stra vince secondo me neca neca rispetto per le tartarughe all's h di bandai che poi si sono tra l'altro anche fermate non hanno fatto i nemici non hanno fatto più niente stra vince per quanto riguarda il disegno per come sono fatte le figure anche le tartarughe ma poi la qualità comunque bassa di questi snodi utilizzati da neca ragazzi non è ovviamente paragonabile degli snodi utilizzati da bandai per le sue sh figure arts comunque in vetrina fa la sua bella figura bellissima da affiancare insieme a tutte le figure delle tartarughe che stanno uscendo veramente neca come brand delle tartarughe sta veramente facendo tantissime tantissime figure praticamente li sta facendo tutti e quindi se amiamo le tartarughe sicuramente al momento quello la serie dove troviamo più figure sicuramente è questa qua della neca e sono anche ben fatte con un ottimo rapporto qualità prezzo sicuramente sicuramente quindi loro sono da prendere ma al lancio perché poi si vede che fanno pochi pezzi prezzo si impenna e poi ovviamente non ne vale assolutamente più la pena comunque un saluto al carletto se non siete ancora iscritti mi raccomando iscrivetevi se mi volete chiedere delle recensioni se delle cose su alcuni prodotti scrivetelo pure nei commenti anche se voi avete questa eprile vi è piaciuta e che dire mettete questi benedetti laia like anche così fate vedere che piacciono le mie recensioni ciao alla prossima saluto anche da april che vi riprende ecco fatta bene guardate anche come calza bene la telecamera fatti caso non è una cosa da poco sull'occhietto preciso guardate fatta bene 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 bene